Ieri sera all'ordine del giorno del Consiglio Comunale c'era anche la piscina. Panaroni, quali sono state le risposte alla vostra interpellanza? Le risposte di questa interpellanza, che era molto semplice, consisteva in due domande. Quando viene consegnata la piscina e se c'è un progetto per attraversare via Mattea in sicurezza. Le due risposte sono state una più deludente dell'altra, perché non esiste una data di consegna della piscina, noi non entriamo nel merito di chi sia la colpa, però fatto sta che una data di consegna certa della piscina non c'è. Ieri il gestore sulla stampa diceva che si augurava di poter entrare a novembre, glielo auguriamo anche noi. Noi abbiamo paura però che questi continui esitamenti possano arrivare all'anno prossimo e dopo non sappiamo se il gestore magari deciderà di non aprire per niente fino a settembre, perché ricordiamoci sempre che poi a maggio la piscina chiude perché a Fano abbiamo una piscina al mare. Quindi se si dovesse fare la consegna in inaugurazione, magari sotto lezioni con la fascia tricolore, potrebbe essere anche bello, però il gestore magari decide di non aprire fino a settembre, questo sarebbe gravissimo. Per cui ci auguriamo che si riesca a consegnare a breve e a che a novembre il gestore possa entrare e gestirla finalmente. Per quello che riguarda la sicurezza purtroppo ancora peggio, nel senso che è vero che si sta realizzando una pista ciclabile e la sta facendo la ditta che costruisce il distributore di benzina. Come una sorta di opera compensativa fa questa ciclabile, il lato campo d'avvezione che va benissimo. Però poi dopo come si attraversa via Mattei? Quando ci passo con mio padre mi dice sempre, ma Tan, ma chi ci faranno il sottopasso? No, papà, purtroppo il sottopasso non lo fanno, lo abbiamo chiesto. La previsione è quella di far attraversare via Mattei con le strisce pedonali con un semaforo a chiamata, che è una cosa secondo noi pericolosissima, non è previsto un sottopassaggio. Per cui queste due semplici domande, quando si aprirà la piscina, non si sa. Come si fa ad attraversare via Mattei? Purtroppo la soluzione è un passaggio pedonale con un semaforo a chiamata, che a nostro avviso è pericolosissimo, purtroppo.